Franco, si parla di un volo che dovrebbe partire nel 2022 Crotone-Venezia. Che cosa ne pensa il Comitato? Sì, notizie di queste ore che a marzo del 2022 partirà un volo per Venezia. Noi accogliamo con felicità questa nuova rotta perché l'aeroporto di Crotone ha bisogno di voli. Per fare i numeri di passeggeri ci vogliono voli. Soltanto con due voli riusciamo già a fare tantissimo perché questi due voli che ci sono adesso per Bergamo e Bologna fanno un indice di riempimento dell'80%, uno tra i più alti d'Italia. È una cosa che ci riempie di gioia e speriamo che se ne aggiungano altri. Il volo per Roma non c'è? Beh, è chiaro che quello che ci manca è il volo per Roma, il volo che poi di conseguenza ci collegherebbe al mondo. Questa è una cosa che noi puntiamo tantissimo e non solo quello. Puntiamo anche sul Torino, puntiamo su altri voli. Noi puntiamo sulla concretezza di questo aeroporto che per noi è di fondamentale importanza. Che cosa ne pensa il comitato del nuovo presidente della regione Roberto Chiuto e quindi della vittoria del centro-destra? Diciamo che come al solito ogni nuovo governatore ha tutti i buoni propositi verso tutti e verso tutto. È chiaro che noi non vediamo l'ora di incontrarlo per esporre questo problema e per attirare l'attenzione sul nostro problema perché fino adesso, da 30 anni a questa parte, nessun governo, né di destra né di sinistra, ha dato un minimo di attenzione al nostro problema. Speriamo che questo sia il momento della svolta. Speriamo di incontrarlo presto come tra l'altro ci è anche promesso.